Buongiorno! Wow, cool! Adesso andiamo a buttare e faccio una camminata Ed ecco che arrivano gli ultimi componenti del gruppo Buongiorno! Buongiorno! Questo è il nostro bambino Beautiful Buongiorno! Lo this way Un'umidità pazzesca, sono completamente sudato. Fa molto Indiana Jones questo ponte. Ok, faccio una foto, vieni qui. Ok, faccio un telefono, seguire. Ok. Wow! Wow! Red people, I'm red people. Buddha! Strong. Si mangia finalmente. Non so, non so. Puoi andare in là? Mmm, mmm, mmm. Gaia vuole mangiarti. Buon appetito. Nu puoi andare in. Chiroi, c'è c'è un tau. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.